È probabilmente l'incontro più atteso ogni anno dai soci dell'Uni3 di Lodi. Per ascoltare Silvio Garattini, farmacologo fondatore dell'Istituto Mario Negri, accorrono a decine riempiendo quest'anno ben due sale, il Salone Sandro Pertini del Circolo Archinti di Viale Pavia e la sala conferenze del Museo Archinti collegato in streaming al Salone Poco Distante. E anche questa volta Garattini è soddisfatto tutti facendo chiarezza su tante decisioni che vengono prese erroneamente da singoli, medici, imprenditori e politici. Al centro dell'attenzione del ricercatore ultranovantenne la salute e le decisioni da prendere per mantenerla. Ce n'è stata ovviamente per tutti a partire dalla logica di fondo che orienta le scelte necessarie per invecchiare bene. Garattini è stato chiaro, in tema di salute è necessaria una vera e propria rivoluzione culturale. Basta con l'uso eccessivo e spesso immotivato e dannoso dei farmaci per cercare di star bene, si arricchiscono solo le case farmaceutiche a danno del sistema sanitario nazionale. Più attenzione invece alla prevenzione, scelta di fondo che tutti gli italiani dovrebbero reclamare a gran voce. E come prevenire le malattie, soprattutto quelle più comuni e diffuse? Anzitutto alimentandosi bene senza eccedere in calorie, poi facendo attenzione all'ambiente di vita nel quale ci troviamo, esposti a tanti, forse troppi, inquinamenti di vario genere. Si tratta quindi di ridurre, se non eliminare del tutto, i fattori di rischio come il fumo, l'alcol, le droghe e tutto ciò che mina alla base la nostra salute. Per invecchiare bene occorre infine coltivare interessi culturali e rapporti sociali necessari per evitare la solitudine all'origine di tanti malesseri. Non bisogna dimenticarsi poi di dormire bene. Il sonno è la via ottimale per il nostro cervello per eliminare tutte le sue scorie. Tante le domande a Garattini dai numerosi presenti, riferite ai temi più svariati, a tutti l'ospite illustre, autentico testimone di come si può invecchiare bene, ha risposto con dati inoppugnabili. Ben meritato da Garattini l'omaggio conclusivo dell'Uni3, una confezione di graspa e una tortionata per accontentare almeno una volta anche il palato.